ecco il motivo fa più o meno così che ve ne pare? sapreste rifarlo? è un, è due, è tre un altro? siete fantastici! adesso andate a ripassarvelo ben bene così faremo una gran bella figura Sally il tuo aiuto mi è più prezioso di quello degli altri è sicuro Jack sapessi ho avuto una visione spaventosa ma è splendido no la visione riguardava il tuo natale c'erano il fuoco le fiamme Sally ma quello che hai visto non è il mio natale ascolta il mio natale è stracolmo di risate e di gioia e di questo il mio costume di babbo nakeni e voglio che tu me lo prepari Jack ti prego ascoltami vedrai che finirà in un disastro impossibile devi soltanto seguire il modello questa parte è rossa le finiture sono bianche è un grosso errore Jack avanti non fare la modesta chi altro è talmente abile da farmi il costume di babbo nakeni io ho la massima riducente vai su per me fai uno sbaglio però sai uno sbaglio grandissimo questo affare viene chiamato lo schiacciano Jack e Jack l'abbiamo preso l'abbiamo preso straordinario sciogliete la corda presto ma non è babbo nakeni questo non è lui e chi è non è babbo nakeni portatelo via abbiamo seguito le tue espressioni siamo passati per la porta quale porta ce n'è più di una babbo nakeni sta dietro la porta che ha questa forma qui sono addolorante per l'inconveniente signore riportatelo immediatamente a casa e chiedetegli di nuovo scusa attenti con babbo nakeni quando lo prendete siate gentili capito grazie a voi che la prossima volta we spagliore di nuovo grazie a voi